argomento centrale, il perno della serata. Allora, il razzismo si è voluto non più nei contro latini, bianchi contro gialli, ma tutti i colori ricchi contro tutti i colori impomeri. Ritornando al discorso del mare, l'uomo è il mare, io stesso mi ho preparato, non è un discorso più completo, riguardo la formazione dell'uomo sul mare. Formazione dell'uomo sul mare, il mare genera lungimiranza, profondità d'animo, permette all'uomo di affrontare e risolvere depressivamente le benifezioni, incentivare gli scambi economici e conoscere nuove terre. Amare il proprio totus, donna coraggio ai giovani, togliendolo ai vecchi, ha permesso di capire il mento attraverso il volo dei gabbiani, il vento e le marette. A sedere! No, l'interno di barboli non rupo sui barboli... A sedere, a sedere, a prendere un ciclo. Allora, l'uomo è un sentimento rigoroso, ma la mente è una soporra, se gli dai troppo questo rischi di andare a conto, mentre l'ambizione serve a portarti calitamente a galla. Grazie! Grazie, grazie, un applauso a Davide, a Giorgis. Davide, avrai molto di rifatto! E adesso, prima di eleggere... Grazie!